Buongiorno, l'incontro di oggi sulle comunità energetiche alla Camera è stato molto molto interessante. Hanno partecipato tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione ed è bello vedere che c'è una convergenza unanime sul fatto che la transizione ecologica è fondamentale, sul fatto che le fonti rinnovabili sono importantissime per tanti motivi, per i prezzi, per ridurre i rischi di inflazione futura, per aiutare le famiglie e le imprese, per eliminare il problema delle emissioni, quello dell'inquinamento, per avere indipendenza energetica, pace e per aumentare l'efficienza dell'energia. È stato molto importante anche sottolineare in questo incontro un modello che io chiamerei una comunità di innovazione sociale. Noi abbiamo identificato ai tempi di Taranto, con le buone pratiche, degli innovatori, in questo caso Acea Pinerolese, che vi ricordate è intervenuta, quindi come azienda modello capace di costruire i primi condomini comunità energetiche in Italia. Abbiamo poi, non ci siamo limitati a chiamarli e a premiarli, ma siamo diventati partner, siamo diventati amici, abbiamo continuato a lavorare insieme e oggi questo incontro, dove Acea Pinerolese intende portare il proprio know-how nel resto d'Italia, Comune di Roma, ma anche in tutto il resto del Paese, è un esempio di come si possa lavorare insieme, diciamo comunità di stakeholder, penso a Next, come settimane sociali, come appunto buone pratiche per poter produrre innovazione. Non ci siamo nascosti anche le difficoltà, gli ostacoli. Oggi nel nostro Paese gli ostacoli sono soprattutto quello della chiarezza in materia di incentivi. Il Ministro, ancora una volta con entusiasmo, ha parlato dell'obiettivo di 15.000 comunità energetiche nei prossimi anni, ma questo è possibile se appunto questi decreti attuativi arriveranno, ormai pare siano imminenti, maggio-giugno. Si è parlato anche del fatto che le comunità energetiche sono un pezzo della transizione ecologica, secondo l'Unione Europea dovrebbero presentare il 15-20% della nuova energia prodotta da fonte rinnovabili, il resto verrà da grandi impianti, che pure stanno arrivando perché i progetti sono pronti e anche qui c'è da superare un collo di bottiglia, un nodo, che è quello delle autorizzazioni, soprattutto a livello regionale, dei conflitti con la cultura e con la sovrintendenza. Penso che questo sia un esempio di come possiamo continuare a lavorare per il bene del Paese, soprattutto con questo modello di comunità di innovazione sociale che ci mette assieme tutti per contribuire dal basso, diciamo nell'ottica del principio di sussidiarietà, a realizzare pezzi importanti di bene comune. Un saluto a tutti.